a pesero stagione balneare prorogata al primo ottobre identificato e denunciato il rapinatore della farmacia mari cavalcavia e sottopasso cappuccini si accelera sui cantieri export a pesero urbino i dati più in calo delle marche vita da social polizia in cattedra sui rischi della rete buonasera a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv ben ritrovati a rossini news telegiornale delle canale 80 che in questa edizione di martedì 19 settembre apriamo occupandoci della stagione estiva balneare è il 19 settembre le temperature sono ancora prettamente estive motivo per cui le comune di pesero ha annunciato una proroga della stagione in città fino al primo di ottobre un'ordinanza del sindaco riccia ha colto la richiesta della regione marche di allungare l'estate dando la possibilità agli operatori economici di rimanere operativi fino alla fine del mese di settembre recuperando i giorni persi a maggio a causa delle piogge le immagini che vedete mostrano la situazione ad oggi fra ponente e levante di pesero dove restano aree attrezzate e altre già in smobilitazione contestualmente le comune prolungherà anche il calendario di monitoraggio di controllo della qualità igienico sanitaria delle acque marine balneabili ed ora un aggiornamento di una notizia di cronaca la polizia ha infatti identificato e denunciato l'autore della rapina alla farmacia mari di via fratelli rosselli avvenuta domenica attorno alle 13 e 30 si tratta di un trentenne residente a pesero con problemi di tossicodipendenza sarebbe stato lui a minacciare la farmacista con un coltello prendendosi 500 euro di fondo cassa le immagini di video sorveglianze esaminate hanno permesso di identificare il soggetto nella tarda serata di ieri l'uomo ha confessato agli agenti della squadra mobile ed è stato denunciato a piede libero ed ora cambiamo argomento e ci occupiamo di lavori pubblici e in particolare di uno dei cantieri più complessi della città di pesero quello delle cavalca ferrovia dopo la pausa ad agosto a settembre si è tornati ad accelerare sui lavori al cavalca ferrovia de sabata ponte di collegamento vecchio mezzo secolo che continua nella sua manutenzione straordinaria da ieri la struttura ha giunto un altro step avviando la demolizione dei vecchi parapetti con una caduta di calcinacci su via 24 maggio che ha portato a chiudere il traffico veicolare da via bixio verso il cavalcavia creando anche qualche disagio alla circolazione ad inizio ottobre dovrebbe invece concludersi il maxi lavoro al sottopasso dei cappuccini dove marche multiservizi sta ultimando l'intervento alla rete del gas sottopasso che chiuso dallo scorso mese di maggio per il maxi intervento di demolizione e ricostruzione del sottopassaggio in versione più allargata e con meno pendenza a novembre arriva invece lo step più delicato per il cavalca ferrovia con i lavori che insisteranno sulla zona centrale sovrastante i binari siamo in contatto siamo diciamo stiamo dialogando con con ferrovia dello stato perché siamo con loro in attesa di avere il periodo preciso nel quale poi sarà possibile andare a fare i lavori nella parte centrale per intenderci quella proprio che passa sopra i binari sono lavori che andranno fatti in sicurezza andranno condivisi tutte le procedure i momenti e i percorsi con loro e con loro c'è una buona sinergia quindi penso che nel mese di novembre si possa poi andare a fare quel tipo di intervento nella parte centrale del ponte sono numeri poco incoraggianti quelli che arrivano dall'analisi dell'export della provincia di pesero e urbino dati che sono stati elaborati da cna pesero e urbino e che denotano il peggior calo di esportazioni dell'intera regione anche l'export ha iniziato a dare segnali preoccupanti l'analisi della cna sulle esportazioni in provincia di peso urbino è infatti fortemente negativa nei primi sei mesi del 2023 rispetto ai primi sei mesi dell'anno precedente l'export pesarese infatti diminuito del 3,7 per cento mentre nello stesso periodo le marche hanno aumentato l'export del 18 per cento in una crescita però viziata dalla performance del farmaceutico di ascoli piceno per il direttore provinciale di cna claudio tarsi la è dovuta soprattutto al calo dell'export manifatturiero che annota 57 milioni in meno seguito dal calo dei prodotti dell'agricoltura con 10 milioni in meno tra le manifatture risultano in calo soprattutto l'esportazione di prodotti in metallo dove c'è una netta frenata delle esportazioni verso germania francia preoccupante anche il calo di 6,7 milioni nell'export di mobili in controtendenza invece le esportazioni dalla provincia dei prodotti del sistema moda in crescita di 16 milioni dei prodotti in gomme plastica di quasi 9 milioni in una crescita analoga a quella delle esportazioni di apparecchiature elettriche l'assessore regionale alla sanità filippo saltamartini ha annunciato oggi che nelle marche la campagna vaccinale anti influenzale inizierà il 12 di ottobre e sarà possibile la cosomministrazione di vaccino anti influenzale e anti covid con vaccini m rna pfizer la vaccinazione sarà somministrata da medici di famiglia o pediatri di libera scelta presso ambulatori e strutture vaccinali dei servizi di igiene e sanità pubblica dei dipartimenti di prevenzione delle ast con prenotazione presso i cup e nelle farmacie che aderiscono alla campagna vaccinale invece oggi in piazza del popolo ha fatto tappa il track itinerante di una vita da social una campagna organizzata dalla polizia in tutta italia per educare gli studenti ai pericoli della rete i social network sempre più pervasivi rischiano di portare i nostri giovani a sconfinare in un utilizzo della rete in cauto e talvolta illecito tanti studenti pesaresi sono alternati oggi nell'aula track multimediale allestita in piazza del popolo dalla polizia di stato in occasione della campagna itinerante di educazione alla legalità una vita da social una campagna ideata dal dipartimento della pubblica sicurezza mirata all'utilizzo sicuro di internet all'educazione alla sicurezza stradale e il contrasto ai reati di discriminazione vita da social è una campagna educativa itinerante realizzata dalla polizia di stato in collaborazione con il ministero dell'istruzione quindi ovviamente i destinatari principali sono gli studenti abbiamo qua ragazzi operatori specializzati e il nostro apparato di comunicazione e facciamo questo l'ennesima giornata speciale quindi lo facciamo tutti i giorni in questo caso abbiamo un'iniziativa che ci viene dal centro e molto forte appunto di vista della dell'attecchimento comunicativo i ragazzi mi sembrano sembrati molto interessati è una buona giornata vogliamo puntare molto sulla consapevolezza soprattutto dell'uso di internet dei pericoli che che riguardano l'utilizzo in cauto del mondo del web infatti con noi abbiamo la polizia postale che appunto ha fatto un focus sull'utilizzo consapevole dei social network e sull'importanza di essere consapevoli del fatto che quello che si posta su internet rimane per sempre uno può cancellare la foto può cancellare il commento però quello ormai è entrato in rete e ci rimarrà e quindi l'importanza di essere veramente sicuri e consapevoli quando si sta postando qualcosa sui social network perché poi le conseguenze si protraggono per tanto tempo poi abbiamo quest'anno anche approfondimenti sulla sicurezza stradale infatti abbiamo i colleghi della polizia stradale di Pesaro che stanno facendo adesso un approfondimento sull'utilizzo del ciclomotore visto l'età degli studenti hanno pensato che fosse l'argomento più appropriato quindi anche dal punto di vista della gestione del motociclo la manutenzione l'utilizzo del casco eccetera e poi avremo due colleghi direttamente da Roma dell'osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori che è uno strumento operativo interforze che è nato nel 2010 per volere dell'allora capo della polizia Manganelli per ottimizzare l'azione della polizia di stato dei carabinieri nella prevenzione e nel contrasto dei tutti i reati che hanno sfondo discriminatorio presente al track anche il campione mondiale di kickboxing Jordan Valdinocci atleta pesarese che nell'occasione ha portato il suo messaggio educativo ai ragazzi per me è sempre un piacere, è già la seconda volta che partecipo a questa occasione, a questo evento diciamo e come sempre quando vengo chiamato per la parte educativa sono disponibile perché penso che sia veramente importante dare un contributo quindi quello che abbiamo ricevuto come dico sempre come atleti anche di darlo ai ragazzi che stanno crescendo e che sicuramente hanno bisogno di avere qualche riferimento che possa aiutarli insomma. Studenti a lezione dalla polizia di stato ma studenti fra poco anche a lezioni di educazione civica e di consiglio comunale con la terza edizione di ti presento il comune. Terza edizione per ti presento il comune questa bellissima esperienza, questo bel progetto che ho voluto costruire nel 2021 in cui ho coinvolto fino ad ora oltre 2000 studentesse e studenti delle scuole elementari, scuole medie e scuole superiori. Un progetto che consente di sapere come funziona il comune, cosa è il sindaco, cosa fa il presidente del consiglio comunale, come funzionano i processi decisionali. Spesso siamo abituati come è giusto che sia a sapere come funzionano le istituzioni europee, come funzionano quelle italiane, ma i processi decisionali dietro casa non sappiamo come funzionano, noi questo possono toccarlo con mano con una simulazione che a tutti gli studenti e studentesse che aderiscono al progetto tramite la loro classe possono fare nella sala del consiglio comunale. Anche quest'anno lo riproponiamo, i ragazzi e ragazze più piccoli, quindi delle scuole medie e degli studi di comprensivi potranno portare a casa un kit da gioco con cui riproporre e moltiplicare le conoscenze che hanno avuto in questa esperienza e i ragazzi delle superiori con cui avere la possibilità chiaramente di approfondire il tema anche dal punto di vista amministrativo, giuridico e aumentare e incrementare la partecipazione alla vita della comunità. Molti di questi infatti partecipano al forum giovani, chiedono come poter mettersi a disposizione della propria comunità e dell'interesse collettivo. Quest'anno la novità è che aggiungeremo oltre questo format che ha funzionato fino ad ora, come dicevo con oltre 2.000 studenti, aggiungeremo un appuntamento in più per i ragazzi più grandi, quindi andremo in classe nelle scuole superiori, nel quarta, quinta e superiori, le scuole classiche aderiranno e costruiremo da lì le proposte per il sindaco che poi verrà in consiglio comunale a simulare il proprio programma di governo e può darsi che avremo anche delle belle proposte anche reali dal punto di vista cittadino. È morto all'età di 108 anni Bruno Gambini, il più anziano cittadino fanese. Ex agricoltore e ferroviere, Gambini era da 10 anni ospite della casa di riposo Famiglianova. Nelle immagini il suo ultimo compleanno lo scorso luglio alla presenza del sindaco di Fano, Massimo Seri, che oggi ha espresso il cordoglio per la scomparsa e la vicinanza ai familiari. Ci sarà anche un bosco che cammina a narrare la natura della cultura di Pesaro 2024 e a trasformare la città rigenerandola con nuovi spazi verdi. E questa è l'idea alla base del primo dei progetti ufficiali di Pesaro Capitale della Cultura per il quale sono al lavoro cittadini e associazioni che hanno preso parte ai primi due incontri coordinati dal consigliere Michele Gambini e dall'architetto Olga Mosquina che proseguiranno venerdì 22 settembre alle 21 alla Biblioteca Brail di Baia Flaminia. Un incontro che metterà a terra le idee già emerse nel percorso partecipativo avviato da settimane per immaginare la città che ancora non c'è ma che andrà a colorarsi di verde. Ed ora vi mostriamo invece una curiosità che arriva dal quartiere peserese di Soria dove da questa mattina è apparso questo cartello affisso presumibilmente da un residente proprietario di Gatto. Ritrae nello specifico un felino domestico con un'eloquente scritta Vai piano anch'io ho famiglia proprio come te. Queste foto postate sui social hanno ricevuto tanti riscontri di consenso per la doppia finalità di sicurezza stradale e tutela degli animali. Ed ora una notizia che riguarda un altro genere di animale nello specifico si tratta del salvataggio di una cavalla caduta in un fosso ai margini di una strada di Cantiano. La squadra dei Vigili del Fuoco di Cagli l'ha recuperata ieri sera con un autogru imbracandola e issandola sulla strada dove ad aspettarlo c'era un veterinario che ne ha controllato lo stato di salute e il proprietario assicuratosi delle buone condizioni che l'ha riportato nella sua stalla. Il 30 di settembre arriva al Collegio Raffaele di Urbino la prima edizione di Tema BioFest un primo festival dedicato ai sapori locali e bio che è stato presentato oggi nella sede di Confcommercio Marche Nord. Siamo veramente orgogliosi di questo evento che per noi è molto importante perché è l'inizio di un progetto di promozione e comunicazione della nostra città ma anche di tutto il territorio riguardo alla qualità della vita, al cibo e su questo il nostro territorio è molto forte perché ha tante aziende legate al biologico naturalmente ma anche tanti operatori che ci credono per cui ristoratori, albergatori, imprenditori che in qualche modo promuovono la città e questo evento Tema BioFest va proprio in quella direzione. È il primo evento del Tema BioFest ma sono sicuro che avrà un grande successo e quindi si ripeterà negli anni. Una prima edizione bella che praticamente coniuga tante persone. Io veramente sono fiera del risultato ottenuto anche grazie all'amministrazione del Comune di Urbino che, sono sincera, è sempre stata presente abbiamo fatto tanti incontri e tutto questo in brevissimo tempo. Io ho sempre creduto che il distretto bio terremarchigiane sia uno strumento innovativo e perfetto per lo sviluppo sostenibile nel nostro territorio. La cosa eccezionale, unica per l'appunto che identifica questo evento come un evento speciale è che siamo tutti in un unico luogo per due giorni all'interno del Collegio Raffaello. Tutti possono fare esperienza di vedere come nel distretto il settore primario collaboro con quello terziario e come entrambi interagiscono con quello secondario perché quindi abbiamo show cooking che utilizzeranno i prodotti dei nostri soci agricoltori e avremo anche laboratori artistici locali che sono la testimonianza di quello che è l'attività artigianale che si stanno perdendo. Sarà bellissimo io con tutto lo staff siamo carichissimi perché comunque ci siamo impegnati tanto i produttori sono veramente felici di partecipare e già si inizia a sentire rumore in città soprattutto perché dicono finalmente una luce su quello che è tutto il nostro territorio. Abbiamo tante materie prime strepitose e i ristoranti nel loro cercano di valorizzarle ma un produttore in stretto contatto con chi verrà a tema bio sarà sicuramente una cosa superiore. Abbiamo deciso di valorizzare una figura fondamentale nei ristoranti che è quella delle cameriere che può diventare matre o manager e accendere soprattutto un faro su una problematica molto evidente nei ristoranti e iniziare a valorizzare questo ruolo. È fondamentale per far sì che i giovani tornino a fare questo lavoro che è un lavoro fondamentale per il nostro settore della ristorazione. E si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornali Rossini News. Prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata che in questo martedì alle 21.20 è dedicato allo speciale realizzato nei nostri studi in merito all'ottavo concorso letterario Ideobook 2023. Poi vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale come ogni giorno dal lunedì al sabato domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali. E si chiude qui invece Rossini News e termina qui il nostro telegiornale. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.